Un ladro ha strappato una collana d'oro a una passante a Milano vicino alla stazione centrale durante la serata di Capodanno. La vittima è una donna di 32 anni seduta in un locale stata aggredita da un uomo tunisino di 20 anni che ha rapidamente ingoiato la rifurtiva davanti alla polizia. La giovane ha immediatamente chiesto aiuto agli agenti in zona fornendo una descrizione dettagliata del ladro. La polizia è intervenuta prontamente arrestando il sospetto e assistendo a un gesto sorprendente quando l'uomo ha cercato di sottrarsi alla cattura inghiottendo la collana. L'azione insolita del ladro ha tirato l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno comunque recuperato la rifurtiva dopo l'arresto. La rapida risposta della polizia e la collaborazione della vittima hanno contribuito alla risoluzione positiva e tempestiva del caso.